Buon pomeriggio, benvenuto al nostro ospite, un grande piacere avere Giuseppe Scopelliti di passaggio qui nelle Marche, oggi a Fermo, tra poco più di un'ora avrà una presentazione del suo libro, Io sono libero, quindi diciamo un po' un'anteprima di quello che poi racconterà della sua esperienza. Giuseppe Scopelliti è stato mandato sindaco di Reggio Calabria, poi presidente governatore della Regione Calabria e questa esperienza, questa ascesa politica insomma che ho visto protagonista di ripetuti successi, era un po' una figura, possiamo dire un'astronascente, una delle figure di massimo spicco della destra, del centrodestra italiano, si è interrotta con una vicenda giudiziaria che lo ha visto pagare per una condanna per falso in atto pubblico, ha pagato nel suo periodo di detenzione e diciamo nasce una nuova vita, un nuovo percorso, un nuovo capitolo che si è aperto e ha raccontato la sua vicenda non tanto giudiziaria quanto umana in questo libro che racconta. Intanto le chiedo di introdurre un po' questo volume, come è nata l'idea di raccontare la sua esperienza? L'idea nasce all'interno della struttura penitenziaria dove viene un ragazzo che è un giornalista che per una disavventura si è trovato anche lui recluso e a un certo punto, dopo circa un mese, poco più, mi dice ma perché non facciamo un libro intervista? Sarebbe una cosa carina, un detenuto che intervista un altro detenuto? Sarebbe una cosa fuori dal normale? Dice che ne pensi? Io ero molto scetti, ho detto no, io preferisco evitare, non entrare in queste dinamiche, non pubblicizzare nulla, preferivo restare un po' sotto traccia. Poi strada facendo questa cosa mi ha sempre di più stimolato, sempre più mi è piaciuta l'idea e a quel punto ci siamo messi a lavorare, abbiamo passato trascorso intere giornate a costruire questo diciamo monoscritto. Ovviamente non è stato facile ma abbiamo avuto le autorizzazioni interne da parte degli ispettori, dei comandanti, della direttrice a lavorare al computer, insomma a fare tutta una serie di attività che ovviamente ci venivano consentite attraverso le autorizzazioni e quindi poi alla fine una volta recuperata una, diciamo così, una nuova dimensione che era quella esterna uscito avendo la semilibertà e così via, è stato anche più facile poi ovviamente completare questo testo e ovviamente poi poterlo anche divulgare e farlo conoscere. Immagino che diciamo l'esperienza di condividere poi la propria quotidianità con altri tenuti, cioè lei naturalmente è, possiamo dire, una figura abbastanza estranea, chiaramente a certi ambienti, insomma lei veniva da un'esperienza politica di continua crescita possiamo dire, quindi si trova in quel contesto che non le appartiene chiaramente. Il rapporto umano prima di tutto che si viene a creare in quegli ambienti, come lo definisci? Allora intanto, intanto va detto che per me, ma per tantissimi altri come me, io non avrei mai immaginato un, diciamo, un epilogo di questa natura. Ovviamente pure avendo fatto politica e quindi sei sempre al rischio, però il rischio è un rischio che se uno commette gli errori abbastanza gravi, è chiaro che sa cosa va incontro. In questo caso dobbiamo dire con molta amarezza e con tristezza che la mia ormai è riconosciuta universalmente, diciamo, è stata una sentenza politica e purtroppo questo da uomo alle istituzioni ho grande sofferenza a dirlo, ma mi sembra evidente anche perché non sono il solo a dirlo, ma lo dicono ormai e tutti, anche tanti attori e protagonisti della vita di questo paese che hanno conosciuto e seguito questa vicenda. Una volta che ci entri devi fare una scelta, una scelta chiara, una scelta di rifiutare tutto ciò che dovrai vivere o una scelta di calarti in pieno in quella realtà pensando di dover sopravvivere e restare in quel contesto. Una delle cose che colpisce molto, anche ieri, ieri sono stata da Avellino, ha colpito molto i relatori nella presentazione del libro, è stata quella che a me anche ha colpito molto e che mi è piaciuto molto riportare poi anche all'interno del testo, è stato quello di essere come quando noi andiamo al cimitero a trovare i nostri defunti, i nostri cari. Ecco, la sensazione che hai è che tu sei dentro un cimitero ma vivo, cioè sei murato all'interno di una realtà cimiteriale e quindi questa è una cosa difficile, cioè da sopportare e da superare. Però poi ognuno di noi è dotato a volte, grazie a Dio, non tutti, questa è un'amarezza perché molta gente ci lascia poi le penne, la vita, è dotato di una forza interiore, anche di un vissuto, di un'esperienza e io passavo dagli alberghi a 5 stelle, dei presidenti di regione a 4 stelle, dei privilegi tra virgolette, ma di quello che sono i ruoli istituzionali, nessun privilegio particolare, però chiamiamoli privilegi, sono passato al letto della cella 16 del cubicolo della sezione Apollo di Reggio Calabria e qui forse hai dimostrato la grande forza interiore, qualcuno come Gianfranco Fini che è un mio grande amico, il mio grande leader di sempre ha detto in tante circostanze quando abbiamo presentato il libro in giro per l'Italia insieme soprattutto i primi tre eventi che abbiamo fatto pubblici, ha sempre detto c'è una cosa che mi ha colpito e che va riconosciuta e che è una cosa bellissima è la dignità con la quale Scopelliti ha vissuto questa sua esperienza detentiva. E allora la dignità, perché la dignità non appartiene a tutti, perché sapevo di aver perso una partita avendo combattuto a mani nude contro un sistema abbastanza complesso e ovviamente soffocante, aggressivo e deciso a devastarti, a distruggerti politicamente e allora a quel punto tu devi prendere atto che hai perso e devi dire solo gli uomini che così come nel testo del libro c'è una frase all'inizio che è di Boris Pasternak che in buona sostanza dice io amo gli uomini che anche se cadono sono capaci di rialzarsi. Ecco ispirarsi a questo tipo di considerazione che poi non è neanche facile, facile da dire ma poi difficile nel concreto, mi sono ispirato a quest'idea che tu eri un leader, eri riconosciuto da tanti come il grande sogno della prima della città di Reggio Lab dove ho fatto a mio giudizio grandissime cose e oggi ho questo riscontro perché la gente mi ferma per strada e mi durerebbe nuovamente sindaco. Qualcuno dice hai vinto nel 2007 con il 70%, oggi vinceresti con l'80%. Non so se queste sono le percentuali più corrette, però posso soltanto dire che la gente mi ferma e ho tantissima gente anche di sinistra che mi dice che non mi ha mai votato e sarebbe pronta a rivotarmi pur di far rinascere quella città. Quella città di Reggio Calabria che io avevo reso grande, bella, mi permetto di dire con presunzione, ma non è presunzione, che avevo reso una città di mare turistica, una città che ho fatto diventare città metropolitana grazie alla mia grande forza nei confronti del dialogo col governo nazionale e col Parlamento. Il Parlamento nel 2009 ha riconosciuto Reggio Calabria città metropolitana grazie all'azione del suo sindaco che con il governo nazionale riuscì a far diventare Reggio la decima città metropolitana d'Italia. Allora tutte queste cose sono il segno di un'azione incisiva, di una voglia di riscatto, di un mezzogiorno e di una terra difficile come la mia, dove io ho rappresentato un sogno, una speranza, che oggi questi sogni, queste speranze sono state subite e mi auguro che qualcuno li possa rappresentare sempre più e meglio di me, ma credo che ad oggi se i riscontri sono quelli che registro vuol dire che non c'è questa alternativa. Come hai vissuto il rapporto, quando entri ti trovi, il mondo dei nomadi che ti saluta e affettuosamente si manifesta in maniera palese dicendo che ha grande stima e simpatia nei tuoi confronti, perché erano quei ragazzi, quei signori ai quali io avevo dato una casa da vivere rispetto a quelle casupole con la fogna che sgorgava all'interno con tutte le difficoltà e disagi, avevo dato a 126 famiglie sgomberando un campo nomadi in una zona quasi centrale della città e avevo dato delle case, avevo dato un futuro ai loro figli. Dall'altra parte c'erano i cosiddetti reggini, i cosiddetti italiani, dove ovviamente quando tu nella vita, queste sono le cose belle che uno si ritrova, quando tu non hai mai fatto del male, perché tu hai governato e hai pensato nel tuo ruolo di governo a soddisfare le esigenze e i bisogni della collettività, senza mai pensare di fare cose particolari o per te o per altri amici tuoi, ma pensi di governare dando respiro e prospettive al territorio, è chiaro che ti ritrovi la gente che si accosta a te e dispiaciuta, con dispiacere ti dice ti aiuteremo noi se serve a superare questa fase difficile perché tu non sei uno ad uso a questo tipo di ovviamente di situazioni. Allora in tutto questo ragionamento è chiaro che ti trovi lì e cosa emerge nel libro questo, lo metto anche in risalto, il carcere rappresenta uno dei momenti forse di alta solidarietà che si vive nella società attuale, dove c'è sempre molto scontro, molto conflitto, molta rabbia, a volte le situazioni di grande imbarazzo perché c'è il conflitto acceso. Dentro il carcere si vivono sicuramente queste cose ma c'è anche la molta solidarietà che tra i detenuti diventa un momento di comunione, un momento di supporto e di sostegno e io posso raccontare queste cose perché le ho vissute, le ho vissute in prima persona e poi perché ho trovato all'interno di quella struttura dei poliziotti, la polizia penitenziaria e degli assistenti che fungono un ruolo, svolgono un ruolo straordinario che non è soltanto quello di chi deve garantire l'ordine, la sicurezza, ma diventano assistenti sociali, diventano poi psicologi nei confronti detenuti, gli educatori che hanno una funzione importante e che comunque sono stati vicini e che danno il loro contributo anche nel rapporto con il detenuto, che non ha altri tipi di rapporti sono con i familiari quando, nei giorni in cui è possibile incontrarli, o gli avvocati, ecco tutto questo mondo l'ho visto non accanto a me, perché sarebbe facile dire questo, l'ho visto accanto al detenuto in genere, chiunque fosse, e questo dimostra come sotto questo punto di vista c'è una eccellente predisposizione da parte dello Stato a stare accanto a chi vive un momento di grande difficoltà. Distinguendo invece l'aspetto trattamentale, cioè quello che il detenuto a volte sta ad oziare nella saletta o nella camera penitenziaria oppure all'aria, diciamo lo spazio dove c'è il passeggio, e invece qui secondo me c'è il grande neo, il grande punto interrogativo, il grande momento in cui bisogna invece che lo Stato prenda coscienza che i detenuti per reintegrarli vanno indirizzati su una serie di attività trattamentali che vengono fatte all'interno della struttura penitenziaria, sono tante, a volte sono tante in tante realtà, e sulla scolta dei risultati che producono in quel tipo di ruolo, in quella esperienza, è chiaro che vengono fuori poi le sintesi, le famose relazioni che dicono che comunque il detenuto ha maturato una serie di esperienze e che comunque il detenuto ha preso coscienza dell'atto compiuto, quindi il detenuto comunque è cresciuto e che può tornare ed essere reinserito in una società. Ecco questo è ciò che oggi manca, che è un elemento invece vitale e fondamentale per far sì che molte persone che delinquono magari dopo una prima esperienza o un errore non debbano ritornare all'interno di quella struttura penitenziaria. E in più, mi permetto di dire che secondo me, anche leggendo tanti documenti, tante carte, perché al piano superiore spesso nella biblioteca venivano gente che era stata arrestata ma era in una fase diciamo così ancora pre-processuale, quindi ancora da processo da avvenire, quindi non era un definitivo come loro io, leggendo tante carte mi sono reso conto che forse, probabilmente, questo è grave e brutto dirlo, un e mezzo, due su dieci un e mezzo su dieci è innocente. E questo quando si priva della libertà una persona bisogna comprendere che si fa un atto di grande, diciamo così, coraggio tra virgolette, ma lo si deve fare con la consapevolezza che chi sbaglia paga, però chi sbaglia, chi sbaglia, chi sbaglia. Lei prima parlava del suo ritorno, no, nella sua terra, nella sua città, di questo sindaco per due mandati, fatto con delle percentuali straordinarie, dice ha trovato una grande solidarietà, ha trovato anche l'aspetto contrario, cioè una diffidenza da parte dei cittadini che di fronte a una persona che ha subito quella condanna la guardano invece con più sospetto, possiamo dire in questo modo? No, perché, perché ripeto, se tu ti sei fatto voler bene nel tuo ruolo, sei sempre stata una persona attenta, sensibile, hai bisogno della collettività, il messaggio che passa è un messaggio unificante, un messaggio che viene condiviso e quindi poi viene trasmesso anche, diciamo così, in tutti gli ambienti, così come io dico sempre il crimine organizzato, l'andrangheta, se tu non sei amico di una cosca e sei, diciamo, avversario, oserei dire anche perché no, nemico di tutte, vieni riconosciuto come un nemico, però questo consente, secondo me, anche di avere un rispetto, perché la gente dice quello è così, è, tra virgolette, è uno stronzo, è uno stronzo con tutti e quindi automaticamente va anche bene perché sanno con chi hanno a che fare, altra cosa è chi fa finta invece di fare, diciamo così, creare questa detta divisione e poi invece ammoreggia con una parte, diciamo, del crimine, allora quelle sono ovviamente esperienze e concetti decisamente diversi. Ecco, quando tu hai trascorso una vita, quando la gente sa che tu hai fatto politica ma non ti sei arricchito perché tu hai vissuto in una situazione privilegiata con gli stipendi che ti dava la politica, ma che tu non hai mai osato e abusato del ruolo che hai assolto, allora a quel punto, a quel punto, diciamo così, entri nel cuore della gente perché la gente ti riconosce questa tua capacità di essere al servizio della collettività. Ovviamente tutto questo mi ha aiutato e ti aiuta a vivere all'interno di quella realtà, come all'esterno, in qualsiasi altro contesto, ma in quella realtà ricordo che c'era una persona che alloggiava di fronte a me e un signor anziano che la mattina mi salutava, la sera, buongiorno, buongiorno e vedevo che poi abbassava sempre la testa, però non lo vedevo disinvolto e cordiale come gli altri, in maniera naturale, spontanea, sempre con grande educazione. Un giorno dopo 3-4 mesi mi chiamò e mi disse io vi devo raccontare perché ce l'ho con voi. Mi raccontò una storia, una vicenda ovviamente grottesca. Ovviamente la gente non sempre conosce quali sono i meccanismi che disciplinano le attività delle amministrazioni. Mi raccontò una scena e una vicenda di un incontro con me, con una delegazione di lavoratori di cui lui faceva parte e diventa difficile spiegare che tu non puoi dare delle risorse tue personali e poi farti le trasferire dal Consiglio regionale nei tuoi averi. Una scena grottesca, quasi al limite della fantascienza, però con garbo, con grande educazione. Io spiegai con fermezza, spero lui poi alla fine lo abbia capito, che era improponibile quella che era la sua pretesa, di una famiglia che viveva un momento di difficoltà. Lui come tanti altri suoi colleghi lavoratori viveva un momento di grande difficoltà e quindi speravano in una risposta. Chiarito a questo aspetto, poi ad esempio con lui siamo stati decine di volte a chiacchierare, io quando facevo i dolci quasi tutte le sere mi sono appassionato all'idea di fare il pasticcere, era un modo per alleggerire la tensione. Ogni sera quindi io poi magari mandavo il dolce alla cella di fronte, magari a quella accanto, riuscivamo a volte a trasferire in queste ciotole, lanciandole, no? A trasferire il dolce che tu facevi. Però il tempo poi passa se tu sei in grado a utilizzarlo, come dicevo prima, impegnarti a dire, beh da qui devi uscire e quindi devi lavorare per uscire, riuscire sano se riesci e vivo soprattutto. Questo significa che a quasi tutte le attività trattamentali io partecipavo. L'ora del coro, la parte legata alla fede, quindi il pomeriggio del venerdì con il prete, col cappellano o comunque con il diacono e quando c'erano i momenti in cui c'era il momento di creatività, quindi di disegno, di parte alla parte diciamo legata a questo tipo di iniziativa. Cioè partecipare, la parte in cui abbiamo giocato a basket, io allenavo la squadra di basket all'interno di quella struttura con tanti ragazzi stranieri. Cioè tutto ciò che ti serviva a restare sempre presente ed essere sempre impegnato e a pensare a combattere quella grande battaglia che avevi di fronte. E la sera poi quando rientrai, perché si rientra alle 18 e 30 e poi lì si cena, dopo la cena, dopo le 19, 19 e 15, è lunga poi fino alla notte, soprattutto d'estate, poi rimetteva a fare i dolci, a fare qualcosa e questo mi è piaciuto perché comunque ho anche imparato qualcosa, no? Di nuovo, uno che faceva politica non aveva tempo da dedicare a niente di tutte queste vicende, diciamo questi aspetti così ludici, così anche fatti di di aspetti di volosità e così via, invece ti sei dedicato a fare anche questo. Senta, ora chiaramente non è questa la sede per rientrare nella vicenda giudiziaria che sarebbe una storia lunga. Di fatto, andando in estrema sintesi, lei ha pagato per, intorno alla figura chiave insomma, per cui poi ha pagato questa pena, questa condanna, era una sua collaboratrice, la dirigente del comune, Orsola Fallar, che poi si suicidò in modo, per l'altro, davvero drammatico, dopo una conferenza stampa in cui le chiedeva scusa e veniva accusata di una serie di trasferimenti di denaro, di ammanchi e di fatto ciò che l'ha condannata è stata definita, se non sbaglio, la prova logica, cioè il sindaco non poteva non sapere che una sua figura di massima fiducia effettuasse questa attività. Questo è un po' in estrema sintesi. La fase dibattimentale del processo si svolge in questo modo. Non c'è un solo testimone, non c'è una sola intercettazione, non c'è un solo documento, quindi non c'è una sola prova, chiamiamolo pure un pizzino per dirla un po' con un termine forse poco adatto, ma per testimoniare concretamente che la prova della condanna si fonda sulla prova logica. Siccome la dirigente era stata nominata da me, io ero corresponsabile con lei. Inizialmente non potevo non sapere, dopo sono diventato io, che dando a lei questi incarichi retribuivo lei in qualche modo per poi farmi farsificare i bilanci. Siamo nel mondo della fantasia. Quando io mi sono andato, ma dico questo perché, lo dico a distanza di anni, sempre con grande amerezza, perché chi ha servito questo Stato, questo Paese, questa nazione, chi si sente uomo delle istituzioni, prova difficoltà a raccontare queste cose, perché si prova un senso di debolezza enorme, grande, quando tu devi dire che in tutta Italia io sono stato l'unico condannato e aver fatto la galera per una vicenda di falsi ideologici in Italia e aggiungo che sono stato ieri, oggi e resterò domani l'unico amministratore, l'unico sindaco incensurato che paga senza le attenuanti e senza nulla che paga col carcere. Poi la cosa più grave ancora è che dovunque in Italia, laddove c'è stato un processo di primo grado con tanto di condanne, la condanna non ha superato un anno e cinque mesi, un anno e sei mesi in primo grado. In appello sono stati assolti tutti in Italia, tutti in appello. Chi ha pagato è stato in qualche circostanza il funzionario, il dirigente, che è quello che predispone il bilancio. Ma laddove è accaduto questo, tutti sono stati condannati in primo grado o comunque indagati, sono quelli che hanno votato il bilancio, perché il bilancio viene votato dall'organo collegiale che quindi è il Consiglio Comunale. A Reggio Calabria, in una maniera che dimostra a volte la forza, chiamiamola così, di un'impostazione forse decisamente sbagliata, come fa a essere condannato il sindaco insieme ai revisori? I revisori prendono la metà dei miei anni, eppure i revisori sono preposti a controllare i conti. Vengono pagati solo per quello dall'amministrazione. I consiglieri comunali e gli assessori l'ha giunta, nessuno mai indagato, come se il bilancio fosse un atto monocratico, ma il bilancio è un atto collegiale. E quindi già questa è un'anomalia grande. La fallara che purtroppo commette un errore gravissimo, e che da me viene licenziata in termini di rapporto e proprio personale, quando apprendo di questa vicenda, lei mi dice non ti rispondo, ero fuori, ero in vacanza, dice non ti rispondo al telefono perché mi vergogno, è tutto vero, e dice mi vergogno, io gli rispondo in maniera lapidaria, gli rispondo ti dovevi vergognare prima, perché così io mi trovo 200 mila euro, 500 mila euro sul mio conto corrente e mi pongo il problema di chi mi ha avversati. Allora, rispetto a questa cosa, io dimostro, e la conferenza stampa è chiara, evidente, perché se lei non si fosse suicidata dalla vergogna perché poi scoprono che lei aveva liquidato delle somme anche al compagno, questa è la verità, lei si suicida il giorno dopo che dimostrano questo aspetto, delle somme che liquidava anche al compagno come un progettista che presentava dei progetti all'amministrazione. E allora lì lei si sente scoperta perché sulla sua nomina lei ha un parere che oggi la Cassazione, sentenziando, ha acclarato che chi è dirigente al contratto può avere gli incarichi da parte dell'amministrazione che gli ha dato il ruolo dirigenziale. Quindi significa che lei ad oggi, infatti il tribunale regionale dopo dieci anni ancora non si è mai pronunciato, dopo nove anni, su questa vicenda, lei poteva avere gli incarichi. Allora a questo punto, a questo punto, lei nella conferenza stampa dice quindi se lei non si fosse suicidata io non avrei avuto certamente quella triste perché lei avrebbe ammesso la sua responsabilità e avrebbe detto in maniera molto chiara la mia totale stranità a questa vicenda. Prova ne sia che lei, come ha detto poc'anzi anche lei, in conferenza stampa dice chiedo scusa a due persone, alla mia famiglia, dice così, e a Peppe Scopelliti perché ho tradito i suoi insegnamenti. Questa conferenza stampa non è stata mai voluta nel primo grado e in secondo grado fatta vedere in piena udienza. I magistrati non hanno la corte, non hanno mai ritenuto di doverla ascoltare e visionare. È un fatto gravissimo perché c'è anche una perizia di parte fatta da due docenti universitari del criminologi della Sapienza, il professore Fusaro e Felix Lecce, i quali in una perizia fatta per conto ovviamente dell'indagato, cosa scrivono? Scrivono che la testimonianza resa da una persona che sta per morire a cinque ore di distanza è un testamento e quindi è la verità che lei dice perché dice tutto ciò che pensa e assolve pienamente Scopelliti, ma questo per la corte non è servito perché l'interesse era un altro, era quello invece di condannare Scopelliti. Lei ha detto, mi perdoni, prima diceva solo io, tra i pubblici amministratori ho pagato questo prezzo. Immagino che nel periodo di detenzione la domanda perché io se la sarà fatta? Ma io lo sapevo già, quindi non mi dovevo fare nessuna domanda perché conosco bene tutti il retroscena e tutto ciò che c'è dietro. E questo dimostra come in questo paese, e qui veniamo al titolo del libro, io sono libero perché io sono stato libero prima, lo sono stato durante e lo sono ancora oggi, perché io sono libero, perché gli uomini liberi in questo paese rappresentano un problema e sono una minaccia. Allora, io penso che questa mia esperienza vissuta da giovani militanti del fronte della gioventù, da uomo di destra, che ha sempre sognato di costruire un'Italia diversa, rappresentava un pericolo in generale, lo rappresentava sicuramente a livello calabrese. Perché la Calabria? Perché la città di Reggio Labria deve restare così com'è, oggi, nel degrado, perché così si nutre il potere criminale e comunque lo Stato vuole questo, purtroppo, lo dico con amarezza. La regione non doveva crescere perché la regione deve continuare ad essere quella regione dove voi da Fermo, così come da Venezia, da Torino a Milano, dicete che quelli sono terroni perché sono delinquenti, perché comunque poi il concetto che passa è questo, perché nulla deve cambiare. Come diceva magari qualcun altro molto più odorevole di me, facciamo finta che tutto cambia affinché nulla cambia. E questa è la filosofia, credo, che deve regnare sui nostri territori. Io, da uomo libero, ho combattuto per cambiare il destino della mia comunità. Ci ho creduto. Sapevo di andare contro determinate logiche di gruppi di potere di quel territorio. Li ho sconfitti negli anni della mia gestione amministrativa a livello comunale. Poi quando tu vai su un livello diverso e incominci anche a trattare argomenti come la sanità, dove tu riduci il debito, il disavanzo annuale da 254 milioni, lo porti a 30 milioni, lei capisce bene che io ho sottratto 220 milioni a 220 persone un milione, a 110 due milioni, a 50 qualcosa di più, e a 10 persone 20 milioni. Quindi lei capisce bene che non era una riduzione drastica del disavanzo una tantum, ma che era una capacità di ridurre drasticamente il disavanzo per sempre, portando a zero, a pareggio, il bilancio della Regione Calabria. Questo significava mettere le mani in tasca a chi, fino ad allora, si era nutrito abbondantemente di risorse che non erano funzionali né ovviamente indirizzate al bene della salute dei cittadini calabresi, bensì alle loro tasche. Quindi quando poi cresci e pensi di fare ben altro, è chiaro che la platea dei nemici cresce e la capacità loro di intrecciarsi diventa un gioco da ragazzi. Tu sei con le mani nude. E' come mi disse un giorno il mio avvocato, noi stiamo combattendo una battaglia, è come se abbiamo di fronte i carri armati e noi siamo con la fionda. Sei destinato a perdere. E un'altra cosa che le voglio dire, è triste sentirsi dire al proprio avvocato la sera prima, domani non intervengo in aula, perché non è necessario, perché domani sarai condannato. Perché questo processo esiste per chi ci sei tu, altrimenti non sarebbe mai esistito. E io dico, no, io sono il presidente della regione, letto dal popolo con 650 mila voti, io mi devo difendere. Dice sì, va bene, se tu insisti io ti difenderò, ma non parlare ancora più forte del fatto di intervenire, perché dà un segnale ancora più forte. Vado in appello e vado a Milano dal professore Giard, un luminare del diritto, mi siedo e mi dice, presidente, ma lei che fa qui? Come mai? E io dico, professore, vuole che ci vediamo domani mattina? Dice, ma lei pensa che essendo tardi io sia un po' anzianotto, forse pensa che un po' tardi vuole... Dice, io le domando, lei che c'entra? Io dico, me lo deve dire lei? Lei non c'entra niente. Una volta in appello, condannato da sei anni a cinque anni, da sei anni a cinque anni, una persona incensurata per abuso d'ufficio e falso ideologico, mi chiama e mi dice, lei deve venire a Milano, con urgenza, l'aspetto perché ho bisogno di lei. Mi dice, io sono disponibile a seguirla, anche in Cassazione, però dobbiamo fare qualcosa, perché qui il diritto è stato calpestato, il diritto è un'altra cosa. E allora trovo il professore Coppi, disponibile a difendermi, quando mi presento da Coppi, alle 16 di pomeriggio di un maggio del 2017, io ho seduto di fronte alla figlia Francesca, lui lateralmente, mi guarda e mi dice, Presidente, io ho letto tutte le carte, ma mi domando, lei cosa c'entra? Le dico, professore, sono arrivato in Cassazione, anche lei mi fa questa domanda, sono stato condannato, anche in Cassazione. Quindi, chi devo credere, a chi doveva difendermi, mi diceva, lei cosa c'entra? Lei sa, non sarà avvocato, come non lo sono io, no? No, però gli avvocati dicono sempre, ai propri assistiti, dicono, è una partita difficile, vediamo, cercheremo di fare il massimo, non danno mai la certezza della soluzione, perché è un terno all'otto, purtroppo in Italia è un terno all'otto. Lei mi deve spiegare, ma lo dico ovviamente affettuosamente, così come tanti altri, non lo spiegare, come fanno due luminari del diritto, il professore Giarda è scomparso, una grande figura come il professore Angelo Giarda, e il professore Coppi a dirmi, lei cosa c'entra? Eppure sono stato condannato e sono finito nella cella 16 della sezione Apollo del carcere di Argilla di Reggio Calabria. Ho visto tra l'altro, tra le tante presentazioni che stavano facendo in giro per l'Italia, mi ha colpito il fatto che a Bari sia venuto il governatore Emiliano, probabilmente di altra parte politica, magistrato, perché è un magistrato che ha detto anche delle parole non banali. Ha detto delle cose bellissime, Emiliano, lo ringrazio ancora oggi, perché ha detto, io ho firmato tante volte i bilanci, mi sono fidato dei dirigenti e preparavo i bilanci perché è così, e mi ha detto, io da magistrato non avrei mai fatto un'indagine del genere. E ha detto, ho apprezzato molto la dignità dell'uomo scopelliti e sono qui per questo, avevo altro da fare, ma sono voluto venire per dimostrare e testimoniare questa sua grande capacità di reazione e con la dignità con cui ha affrontato questa esperienza detentiva. Questo ovviamente è stato un ennesimo segnale con quello di Michele, Emiliano, ma come di Gianfranco Fini, come di tantissimi altri, che ovviamente hanno manifestato tante perplessità, tanti dubbi, e questo dimostra come oggi la giustizia italiana ha necessità di essere riformata per garantire al meglio un paese, un'Italia giusta, libera e forte. Io credo che non abbiamo nessuno di questi elementi oggi, l'Italia non è libera, non è forte e non è giusta. E allora sotto questo punto di vista le riforme del ministro Nordio, quella dell'abuso d'ufficio è eccellente, quella delle intercettazioni sarà eccellente, stamattina sentivo qualcosa legato anche agli avvisi di garanzia, tutto, alcune di queste cose vanno bene, ma la riforma della giustizia deve essere più generale e complessiva. Bisogna incominciare a dare dei segnali molto chiari, perché la giustizia, ne abbiamo la riprova, e non lo dico io, che magari sarei di parte, lo dice Palamara, il magistrato Palamara, componente del CSM, dice che la giustizia sa essere una giustizia politicizzata. E questo non è consentito, perché se io faccio un giuramento di fedeltà alla patria, allo Stato, io non posso pensare di servire logiche di appartenenza politica. Questo è un elemento che consente ad oggi di sviscerare questo tema e di mettere in campo tutta una serie di condizioni tese a porre questo limite. Poi c'è la grande debolezza, la grande debolezza che viviamo, la debolezza della politica. Oggi, fino a quando non si ristabilisce, non si crea un riequilibrio tra i poteri e lo Stato, quindi il potere esecutivo, il potere legislativo e quello della magistratura, fino a quando la politica non si riappropria delle proprie funzioni, saremo un Paese destinato a soccombere. La politica non conterà nulla e i destini della nostra comunità non dipenderanno da chi dà un indirizzo, bensì da altri meccanismi. Allora, questi sono elementi che oggi, io mi auguro e sono convinto, Giorgia Meloni con il suo governo riuscirà a trattare e a mettere in campo. Se vogliamo veramente fare un qualcosa di nuovo. Cioè, oggi, quando tanti chiamano Paese, io che sono di destra non ho mai chiamato Paese d'Italia, ho sempre chiamato la mia nazione, che è una cosa diversa, basta andare nel vocabolare a capire cos'è la differenza tra nazione e Paese. La mia patria, la mia nazione, sono ben altro di quello che oggi sto vivendo e che abbiamo vissuto. Chiudo l'ultimissima domanda, poi ci salutiamo perché il tempo è finito, ha parlato di politica, ha parlato della sua terra. Oggi al governo c'è un po' quella che è la sua generazione, di quelli nati dal fronte della gioventù, dalla destra che hanno fatto la capetta e oggi sono alla guida del Paese. Lei ci si rivede in qualche ruolo oppure esclude un ritorno? Guardi, io incontro tanti amici, anche gli uomini di governo delle Marche, del Lazio, dell'Abruzzo, della Calabria, vedo tantissimi amici, tantissimi ragazzi che sono cresciuti con me, che sono stati i miei dirigenti, io sono stato anche il segretario nazionale del fronte della gioventù, quindi l'espressione massima del mondo giovanile della destra, del fronte della gioventù dal 93 al 96, quindi quando eravamo da Movimento Sociale Italiano ho traghettato anch'io il mondo giovanile diciamo del fronte della gioventù in AEN, in alleanze nazionali, in quella fase storica. Io vedo tanti amici che mi dicono ogni tanto, qualcuno dice io sono in difficoltà o imbarazzo, sono cresciuto con te e tu dovevi essere al mio posto. Qualcuno dei miei più cari amici in Calabresi mi dice questo, non comprendendo e non sapendo che io sono un uomo felice perché vedo per alcuni aspetti che i miei sogni, le mie ambizioni, i miei desideri, il mio sogno d'Italia, anche se io non posso realizzarlo oggi, ci sono loro che potranno e mi auguro che riescono in questo grande intento che potranno regalare a noi italiani questa dimensione diversa. Il mio impegno invece diretto in politica non lo vedo più perché io dico appartengo a un'altra stagione della politica, ognuno di noi appartiene a una stagione, questa non è la mia e credo che sarebbe un errore tornare. Poi dice, tanti dicono sì, ma la politica è una malattia, è vero, però io sono riuscito a disintossicarmi in questa fase, sono felice di quello che faccio, del mio lavoro, faccio il tifo per i tanti ragazzi, i tanti uomini e tante donne che sono cresciute con me, che erano i miei dirigenti, i miei segretari provinciali, i giovanini, i miei segretari regionali che sono al governo e spero soltanto che loro potranno regalare ai nostri figli se non a noi subito un paese e un'Italia diversa. Questo è il mio vero grande obiettivo e il mio vero grande desiderio. Con questo auspicio io ringrazio il presidente Giuseppe Scopelliti per essere stato con noi, per i suoi parole, per la sua testimonianza e grazie ancora e restituisco la linea dalle stagioni. Grazie a tutti i nostri spettatori